Eccoci da entrati a Indahouse, sempre su Match Music. Siete pronti per partire? Perché il prossimo è un pezzo veramente devastante. Lui si chiama Jaquin Garot, è di Nantes, ovviamente in Francia, e produce musica da molti anni. Collaboratore stretto di David Guetta per molto tempo, ha remixato artisti come Paul Johnson, Deep Dish, David Bowie e Cali Minogue. Oggi lo ritroviamo con We Are The Future, una bombetta elettronica dal sicuro impatto sul dance floor. Tra l'altro in studio c'è chi già sta saltando. Andiamocela a vedere. No, 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 no No, 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 no Ultra-fagnetic frequency, electric banging Energies, infinity, universal children We are the future, now it's time to let them know We are the future, galactic from beyond We are the future, party on We are the future, galactic from beyond We are the future, keep the edge on We are the future, galactic from beyond We are the future, party on We are the future, galactic from beyond We are the future, for the own We are the future, galactic from beyond We are the future, keep the edge on Ayo, don't you?